Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e andiamo a vedere come ha chiuso il mercato azionario americano perché c'è una importante struttura che il prezzo ha sentito, ne avevamo già parlato in passato ed oggi è successo quello che probabilmente ci aspettavamo. Prima voglio dirvi però, voglio leggervi questa notizia, o meglio, ve la voglio dire poi l'andate a approfondire da soli. Ray Dalio, conoscerete sicuramente il grande investitore, miliardario direi, della Bridgewater Associates ha abbassato le sue percentuali di possibilità che si verificherà una recessione prima del 2020. Le ha abbassate, ma questo non vuol dire che non ci crede, anzi quello che dice è che ci sono più del 70% di possibilità che ci sarà una recessione prima delle nuove elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, quindi intorno al 2020. Perciò, andatevi a leggere poi l'articolo, c'è anche questa intervista, l'estratto dell'intervista, e parlavamo proprio nei giorni scorsi, quando abbiamo detto, ma quando è che una, quando può succedere una nuova recessione, Marco avevi detto che a ottobre, settembre avevamo visto l'inizio, poi invece il mercato è andato su, quando può succedere? Nessuno lo sa, come al solito, ognuno ha la propria opinione, ma queste sono opinioni, e quindi vanno prese con questo approccio. Allora, che cosa è successo sui mercati oggi? Guardate, questo è l'S&P 500, ve lo faccio vedere sull'S&P 500, ma quello che è successo è successo un po' su tutto il mercato azionario americano. In particolare, guardate quest'ultima candela, la candela di oggi, che a quest'ora ha chiuso, voi state vedendo di mattina il video, ma la candela ha chiuso, è già chiusa, è fermo il mercato. Allora, c'è stato un gap, quindi il mercato aveva chiuso il giorno prima a questi livelli qua, c'è stato un gap, però un gap che ha subito visto una candela ribassista. E guardate, vi voglio far vedere una cosa, guardate come, metto una struttura, una linea orizzontale, guardate come, praticamente, la candela di oggi ha sentito questa struttura, che in passato per tre volte è stata utilizzata come resistenza, ed è stata utilizzata come resistenza anche nei giorni scorsi. Quindi, di nuovo, anche oggi il prezzo non è riuscito a rompere questa struttura, ma per ora ci ha rimbalzato. Staremo a vedere che cosa succederà. Fatto stacca adesso, vedete, ha creato questo canale, il prezzo, e staremo a vedere che cosa potrà fare. Vi faccio vedere che questa struttura, oltre a cadere vicino alla media 200 periodi, che verrete poco più sotto, è la linea rossa, anche dal punto di vista di Fibonacci, guardate, traccio dallo swing high allo swing low, e, fatemi arrivare bene allo swing low, guardate un po' dove casca. Questa struttura casca anche su un livello preciso, il livello 78,6 di Fibonacci, a 2812 punti. Fatto sta che il prezzo, adesso, se davvero dovesse utilizzare come resistenza questa struttura, che cosa potrebbe fare? Potrebbe rimbalzare, arrivare al livello 61,8, o al livello 0,50 di Fibonacci. Guardate qui questi due livelli quanto sono importanti, lo 0,50 è più importante in realtà, e adesso vi faccio vedere perché, guardate, vi segno questa linea. Vedete che è stato usato in passato come supporto, o come resistenza, qui ancora come supporto, e casca proprio sul ritracciamento 0,50 di Fibonacci. Quindi, sarà interessante vedere se questa cavalcata al rialzo, ragazzi, questa cavalcata al rialzo non ha nessun aspetto fondamentale dietro. Non sappiamo perché i mercati si sono alzati in questo modo, qui, secondo me, c'è stata tanta paura di perdere l'opportunità del rimbalzo dei mercati. Quindi, sono entrati, ma sono entrati i piccoli, anche perché vedete come, in maniera veramente non aggressiva, il prezzo è andato verso l'alto, piano, piano. Infatti, vi ricordate che vi ho parlato di melt-up, di questo fenomeno di cui si parla in finanza, ed è quello che probabilmente è avvenuto. Fatto sta che il prezzo adesso è arrivato a questa importantissima struttura. Potremmo vedere un ritracciamento, sarebbe del tutto fisiologico, dopo questa grande salita ininterrotta. Quindi potremmo vederlo rimbalzare sul livello 61,8 o sul livello 0,50, prima e nell'ipotesi in cui ci sia una prosecuzione di questo primo impulso rialzista e magari si formi un ABCD pattern, ovviamente. Fatto sta che potrebbe, altrimenti, questo ritracciamento essere solo un ritracciamento di questo impulso ribassista. Ok, un ritracciamento un po' profondo perché ha rotto il livello 61,8, che è il livello per me massimo di attenzione. Sapete, il ritracciamento è tra il livello 38,2 e il livello 61,8. Questo è arrivato un po' più alto, ma è arrivato anche su una struttura importante. Quello che potrebbe fare è continuare a ribasso. Quindi siamo un po' alla resa dei conti, staremo a vedere. Volevo parlarvi anche dell'oro, ma direi che, visto che il video è durato già un po', mi fermo qui sul mercato azionario e magari dell'oro parliamo domani o se riusciamo dopo domani. Ragazzi, fatemi sapere qual è la vostra visione sui mercati finanziari. Io vi avevo detto che mi aspettavo un rallentamento, me lo aspettavo già qui sulla media 200 periodi, il prezzo è riuscito un po' a salire e arrivare su quest'altra struttura. Quindi sapete che ho aperto parecchie posizioni long sul mercato azionario, quindi posizioni in acquisto in questo momento, e sono molto attento perché se il prezzo dovesse scendere sotto la media 200 periodi comincerò a valutare la chiusura delle posizioni, perché non voglio massimizzare il mio profitto, che in questo caso sarebbe un profitto molto interessante, perché sarebbe un profitto di circa il, orientativamente, e poi magari lo andiamo a vedere, di circa il 10%, fatto in praticamente un mese, quindi mi posso sicuramente accontentare. Come al solito, di regole è fatto il trading, quindi bisogna seguire le proprie regole. Di nuovo, grazie mille per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ciao!